Gustativi dadi, estetia realizzata con saggiudio della regione Sarda, in Prentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. Amico, si stimao con questa puntata di Oiser House, proprio d'otto che sta a topio di Ocanno, con questa trasmissione in maestroso. Abbiamo la possibilità di dare il grazie a un montone di gente che ha collaborato e ha giudato a realizzare questo programma, ma, per esempio, è la regione Sarda che ha giudato e sostegno con il suo progetto Prentas, e dunque, grazie a questo, a Renescio, a andare in giro in Sardegna, a tovia e a tutti i maestrosmann, che ti contavo in 20 puntata, i arti che conosciuti bene e commenti ai giovani, a Renescio, a diventare tutti, perché ci sono cose che apprezzano in Prentas e ha più bello di ogni arti che ha usato a Prentas. Dunque, grazie a tutti e grazie a Vosato che ha usato in Sardegna, ma si lascia con una puntata di Aderu del Porto Mannumeta poi andavamo in Orgosolo a trovare un operatore culturale che è Franco Corrias, cantatore a tenore, sonatori di trumba, di armonica a bocca e dunque si usano a bocca che in Orgosolo si è nata a trumba e dunque con questo io andavo a conoscere i gustati del suo canto a tenore il suo canto a quattro bocisi, a quattro vattisi, il suo canto culturale che ti incantavo sul mondo e io andavo a ascoltare una scantucosa che questo vai a conoscere ai giovani, a chi in Orgosolo e a tutti già da quando nasci e ti appassionati di questo canto che ti incantavo sul mondo un treo dunque si chiede adesso i professori Marco Luzzo, torna un grazie a Marco Luzzo torna un grazie a Maria Barca che è lì giù, Donia Gira, si chiede e andavamo in pari oggi a vivere come si canta da tenore in Orgosolo e poi si usavano con un saluto e spedavano a trabotas su canto a tenore è uno del suo genere musicale per un rappresentativo della tradizione sarda si accatta da in sessanta viddasa della sardina di Meso e di Suso e all'uagere su un batto ruminese a tenore si canta da s'amore, si accompagna sul ballo, si sta in companzia dopo uno primo riconoscimento su due amizze chimbe e su due amizze otto su canto a tenore è si stetti opposto il salista del sorbanese materiale per disumanità di su unesco, diventando condotto in tutto il suo mondo questa cosa più particolare di su canto a tenore è che cada vidda conserva da sa moda sua su modo proprio di cantare, cada uno usa proprio le caratteristiche una di esa moda più conosciuta è questa cosa di Orgosolo vidda questa barbagia in uve sul tenore è questa tradizione viva su cantore e santicore di Orgosolo ha fatto gli storia di questa maniera di cantare e questo ordeo si chi ne attenne viva sa tradizione a che le ha resa moda orgolese finza a s'afforre di su sconfine uno dei sostenori più sconnotosi è il suo tenore murales con la voca di Franco Corrias tra queste attività e di sassozio veste questa idea che rattoppare su orzovano della vita chi chiede imparare a cantare a sa moda orgolese e dunque siamo in questo ultimo ottobio di Maistus siamo arrivati in Orgosolo, siamo a domo di Franco Corrias in questo bello apposento, in tanti bella domo grazie bella domo è questa zona che si gioverà di Orgosolo grazie, questa è una zona di Sarmentus, siamo un'arana siamo scarrasole bella bella di Aderus ma questa cosa è in Portugali quando andiamo di Franco Corrias di tanti in tanti si organizzano a Tobi, laboratori con giovani tanti figli di cuore stai già cominciando è cominciando lì tu a lotare e Franco Corrias è un ausente quando andiamo a Tobi a un pranzo, a un luogo questi operatori culturali di Aderus questo fai parte di essere sozio e Murales che è di Aderus questo luogo di Portugali di canto a tenore del gruppo di ballo di tutte cose culturali che fai inti noi in Orgosolo ma io sono musicista ma io sto fai di Aderus di un montone di cose se mi fai pregiare io ho andato via in Domusua e noi si conosceva di Aderus e nasce questo gruppo mi parli pari su un anno e nasce questo gruppo ricordami noi praticamente ufficialmente siamo in 1991 e dunque sono fatti già i 30 anni 31 anni e si conosceva su Brutte dei Bruso poi da voi mancai dopo come stavo prima in 1985 1986 e dunque mi parli che si conosceva da me era dunque questa cosa bella di questa spuntata dei maestri che se io si rinnesso a conosce a scrucchiare e a scrucchiare e a scrucchiare con le cose e a scrucchiare e a scrucchiare e a scrucchiare maestri ma non è a scrucchiare ma non è a scrucchiare quattro bogici dei omini e tutto il canto e voi dobbiamo chiedere a voi a chiedere a voi a chiedere a voi del suo canto a tenore e commenti voi organizzare le lezioni di oggi noi a me siamo scopinzati dopo un anno prima nel 1991 però da prima io Maurizio siamo parte del suo gruppo e ballo e andavamo sempre a tenore poi la morda a fine anni 80 io siamo a prima adesso entra ad esempio a fare una laboratoria di solado 89 79 in Orgozo in Orgozo in Orgozo in Orgozo in Orgozo in Orgozo avevamo usato un laboratorio in una classe quindi abbiamo una classe di mistura di eminasa e di omenese fino a siamo usati su un usaggio momento in Tattari e sul Teatro Verdi è di usso di usso spizzino e praticamente avevamo cominciato nel 79 per esempio innova presenti Santoni e Cosomo in questo periodo di ballerino su un paese da io abbiamo cominciato poi noi abbiamo parte del gruppo di orzobano di Antonio Amesina in questo anno fino agli anni 80 da tanto praticamente tutto il settore giovanile poi noi oltre a 6 ore abbiamo seguito sul laboratorio che avevamo in non la stava da sul periodo non la stava 6 ore ma tessi la palestra comunale abbiamo il laboratorio in Ibe tutto il settore giovanile poi è molto bravo proprio di questo all'eco di persone appassionate su ballo su quanto tutto il settore giovanile avevamo questo desizio proprio era un socioculturale non sono attratto da questa cosa comunque in questo anno siamo attraverso il gruppo e hanno giàato questo passo che si pone solamente socioculturale e noi quindi 89, 90 91 siamo iscritti solamente socioculturale e mandavamo a Dainantesi se ha sprovato in maniera sospettivamente che ha già ma se vai ad gente entra sempre a nuovo caso abbiamo usato più su commento ecco e pensando a voi sottopio e sassozio murale sta traballendo con ballo e canto a tenore e tutte cose culturali che si fa già adesso nomine si torna a remonare quest'arte antica antica quest'arte ma noi in Orgosolo a Tentio di Adedo sono una grande diffusione che usa dei murali dei vintani di muri tutto questo che succedia da in Sandus dunque un'arte bella che c'è noi in Orgosolo torna usano su denore e noi in lezioni potete cominciare a comprendere lezioni noi io giusto per aumentare quando cominciavamo quando noi eravamo sul laboratorio poi dopo dopo sui 79 noi tornavamo a dire a me non tornavamo a dire sono 90 90 in vero monta se non da sette un momento bene però di questo sanno quindi a noi non davano a costruire davano una classe una classe vai alla diverso spizzino è un spizzino non è nozione di ammigliare di nargere due depresi a stringere faringe o laringe iniziamo sproggio e quindi iniziamo imitando vari arvore su un preso per esempio usare la voce della contra la spizzino l'usai io erano un motturino pronare recogliavamo si incostava oppure per esempio sul basso su basso l'inaravo a fare a imitare s'animata un animale che poteva essere un poche zone e caso che sia un prendere a individuare il ma sempre giovane il suo spizzino però sa cosa manna io usa passione e dimostrava insomma intanto di piano una cosa che si pia a fare tu ascoltare metodo tenore e grazie a Dio sorgosolo ha mostro una bella produzione ha mostro bello esempio sapere il tenore di potere e poter attingere dai tuttube quindi ascoltando e ponendoli afficchi a questa cosa insomma è un'azienda che si sa prendere i tali dati sono un po' di azzurre e lo s'animavo lo s'incorzavo si diamo su pezzino pone a oltre l'incorzavo si chiede sa oltre e su basso la matessi ora poi siamo mette venissi a fare il pezzo del tenore per il suo vina sedeo per esempio andò vediamo a un pezzino che pone a sub basso bene e ottono l'imbaravo sa oltre vediamo se abbiamo sa cordo musicale e casi si ghiavamo e sa me su voi invece essere e sarvoso più facile sarvoso imparavamo imparare una cortina e ballo in una cosa più semplice o una una cortina in decasillaba pro una serie pro una dire e sa me su voi venia da diamo narri venia più facile ecco a seguire beh beh questo è già un modo una modalità di imparare il picciocchetto su a come sai a cantare ma mi pare in noi che sono devassioni e totto ma di aderosi nordoso non scettici punti e formazione del tenore se cusso su nata uso professionale si garza se a chiarsi alti di spalle cosa andate manifestazioni ma di aderosi c'è un bello movimento del giovane su di canta da tenore non punti strutturato e organizzato mi pare che sia l'ancora icci servivissima però questo nemmeno fortunato infatti noi andre venne a mancare praticamente si solo faremo a un certo punto noi sopra l'emotivo il sole insomma non ha fatto più laboratori secondo me è un errore ma comunque sai solo a tuoi piacere un pezzino intanto in un'età del zai e il poter domare mezzo su un preso però scelta scolastica e quindi usso venne a mancare ma noi siamo mette su sti avevano mandato ai nati per diversi anni su laboratori del ballo però sormano noi già andavamo e quindi androno quando vai a pezzino si e comunque andavano a tenore ero provare provavano e noi si venivano in un paio spontaneo di sé o per esempio in fisso ormai o in dom andavamo in campagna in epodermeo su un preso ma sempre ma sempre in in costa e ando tu hai una passione tu non vienes ora è un momento di provare un urfo a te no ecco quindi noi grazie a questa tradizione nostra viva noi possiamo amare il podio e attingiamo tutta ora per esempio a pezzino i zai non fanno parte dei gruppi magari strutturati un preso però dai andano a tenore a noi non scappata di spesso e magari non manca uno uno del nostro e non arrabbiava sottare i primi ponte oltre l'umultimo saremo su una prova vediamo l'inaramo su di prima osare è capitato dei lupiare aumenti turnista a me la rossa è capitato quindi grazie a questa cosa io e orgoglio oggi e soprattutto su l'antatenore di viva è bello su paturato e tutto se si è un dei su maestro su e continuanti a mancai non ci sia la sua scuola e tutto ma in dom o due o in altre occasioni un sassozio murale su mentanao a continuare a attubiare con i giovani a disfai conosci gustati e itta dipinti conosce che noi ci sono tre giovani già sta costante su cantata e noi che alcun canta da ogni adante come usato poi c'è il figlio tu tantano stendi salvatore a tre anni tre anni e itta dipinti cita itta è stata d'importo che si dipinti di cantando a tenore cioè itta dicontai su e giovani cioè con l'atteggiamento, con le impostazioni, con questa poesia. E questo è il comportamento? Un'altra cosa più importante secondo me è che noi attraverso il tenore battiamo con questa poesia. Questa poesia è stata una storia nostra. Un esempio mi viene da mente, per esempio questa roba di Zipo Pino Marotto di Prato Bello. In questa roba siamo in tanto tenore, ma siamo nel stesso tempo in tanto una storia che in Orgosolo va a capitare. Certo. Quindi questo è una cosa importante. Questo lo ha proprio in tanto tenore. Orgosolo soprattutto poi da importo umano sul testo politico. Sul testo politico. Un pezzino minore. Magari non si manca più il salotto di Prato Bello. Andando questa roba... Certo. Aumenta proprio la storia. E mancava in forma. Noi noci. A Bella Bello. Io per esempio io vi ho delle sospensioni. Noi non si cominciava ad andare o a intendere. Prato Bello mi domandavano. «Certo». Noi non sono in questo testo, non sono in questo caso. Io ho visto in tutto il territorio che venivano occupati a un militare. Io ho preso. Cosa è? In sostanza, questo è? Cosa è. Io per esempio la legge di mimme. Dopo, dopo, quando ho cominciato a leggere a me, io. Io non mi sono mai stato intonato, però già mi immaginavo se è lontano da lui, da questa lettura, o Montanaro, per esempio l'azienda di Montanaro. Io quasi quasi andavo qui a Manu, che sono stato il proprio modo di viaggiare, andare al soloso, pare a un inilosismo che apparteniano alla questa poesia di sì o a… Dunque questa poesia è una delle cose molto importanti, si può dire, assolutamente. Come te, so vero, su te, magari ho gli trasferiti, come te conoscenze. Mi pare che in un lavoro che hai fatto ci viene il verso su De Re Mundo Pira, se non si ha si sciato, non pare che cosa domani. Un'altra cosa di aderito che è fondamentale per questa Sardinia, con questa poesia che hai cantato e che è posto in suo disco pure, mi pare. E poi viene il sottitolo del suo… Premio? Premio Mario Cervo. Eh, del suo libro, praticamente, del libro CD. E noi stiamo a conferire appunto il premio Mario Cervo nel 2009. 2009. 2009. E noi andavamo… Ecco, appunto, esordimus proprio in questo suonetto non sia si sciato. Il suonare ad appunto osardus e sardus e sardus e sselbonus, sempre Salimba attuva a pass presente. Non sia schi sciato. Obediente va a tenne Salimba e suo padrono. L'importanza della Salimba, dell'identità di un popolo. Da lui si muove tutto. Un preso. Eh, ma in uno tenore… Deppi pure essere capace di improvvisare, di fare un saluto, di improvvisare verso… E' un'altra parte di un'altra parte in questo momento. Noi abbiamo la fortuna e i suoi sozzi imponiamo… Tiene questo dono di improvvisare. Eh, è… La imponiamo, di noi, per esempio, siamo al primo e vogliamo andare… Ah, appunto. …..un buono da questa volta. Però vai a, per esempio, per questa terravoa, andavano a noi, bandantoni, è capitato proprio da improvvisare allo. È un momento, ecco. È una cosa che abbiamo avuto questa serata e hai questa capacità. Però noi siamo a Maurizio e noi, su buonasera volta, io mi intendo me da e Maurizio preparando esa serata, e io ho studiato un imposto umano, un po' di poesia, a salutare la vita in ospita, e noi ho studiato un imposto umano, ecco. Io ho studiato un po' di poesia, però io mi impongo un po' di parlare di questo, e questo, Bannantoni e Maurizio hanno veramente un belludono sopra questa cosa. E dunque, se questo è la cosa che ha dei pericieri, chi in tre anni fa i battiti su un canto tenore, vai di questa voce, savo che, un poeta esattolo su non debiti conoscere la poesia, cioè, è bene che la sconoscere, ma non tanti commenti, chi in vai di questa voce, no? Osto è un po' di poesia, è vero, savo che deve essere questa capacità, è lo comune che deve essere e è spruzzo a dare nanti che questa voce. In effetti, noi si oggi, però abbiamo difficoltà di spruzzo a reperire, se io non riesco a fare un esempio di numero, da 1 a 10, tu magari sei a passare 8, e sei a fare tutte le spruzioni del tenore, e 2 ore magari, solo solo voi, proprio provare traballo e pruso, l'impinno e pruso, e poi, un'altra cosa che non trascorremmo, comunque, savo, è estesa, e vieni poi a Saine, identifica su tenore, vieni di, su certa critica, sa, ho preso... Ed è un momento, un po' su tenore, uno dei tenore di Orgosio, ma su tenore di Tio Nicola Pira, non andiamo su tenore di un Tanavona, tenore di Tio Nicola Pira, o Giovanni Pira. È vero, è vero. Poeta, senti, personalità di sì, gli addici, volti... Poi siamo già più pezzi, uno caso solo, in Orgosio, e comunque io veramente vienessi, se lo riconosco, mentre è uno mastro, e si andava sul gruppo urbano. Ah, sì. E io, e su, e su, e su, e su, andate noi lo ponia a basso, però ha ragione tue, lo commentavamo su tenore di Tio Toliano, su tenore di Tio Pezzo, Sì, sì, sì. Ho preso, su tenore di Tio Nicola, proprio, quasi quasi in maniera viena familiare, su tenore di Tio Nicola. Sì, sì, sì. Ho preso, proprio, proprio, però si importa un mano, io da giurullo e Savo, ho preso. Tornavo su questo picciocco, sui dei pittiscini, in ognuna dei pochi, e noi, e starete a capire noi, dognuno dei suoi, il tuo ruolo degno, in te. Eh, Bastiano è oltre, Luziano è basso, Salvatore è provando, se è molto cominciato, eh, poi vediamo se lo promuorre, o lo rimandare, sta cominciando su basso. Ah, su basso, dunque da due a basso è una... Sì, in questo caso è un ruolo basso è una contra. È una contra, sì, sì, sì. E potevo su, intendi questo, po' comprendi, se fontandendi bene, se fonti un po' stavo bene, e te potevo fare con questo, come te laboratori, po' comprendi? Impari mancai a tutte le ore e manno su, potremmo su, cominciare a comprendere i commenti, sa costantissimo, sui tali dati dei boci, te impostazioni dei denti... No, potremmo su, potremmo su, potremmo su, a tre in paio venivano noi. No. Ma devi lasciare un altro... Hai gustavate, hai cittadino su, sul microfono noi, hai cittadino su, intendi i boci spuru, ecco, non ha di lui, ti depinti vai, ti depinti vai, ti depinti vai, ti depinti... Sì, qui è servato. E quando ti spai amicizio, ti depinti vai, ti depinti vai. Non troppo atteso adesso, il microfono, dico no, non ti depinti vai, eh. Sì, sì. Ho detto, sì, ho detto... Eh, ho detto. Ti prendi un po', per esempio, questo saluto non vi amo. E ora ti spaziano, ti spaziano, ti spaziano, ti spaziano? A me ho... ho avuto una grossa... e generalmente è una grossa di saluto, io non ho preso sopra, il legame sopra tutto noi, ecco. Venimmo a sonare e a cantare con questa sardantica melodia. Proponere un pago in allegria, la gente che ne danno si scultare. Oggi, buonasera volta che cominciamo la musica, poi vediamo se inizia un'azienda, ma in questo caso venite a tonare, quindi ho preso. Ah, bene, bene. Verso anche Salvatore? Sì. Giusto provare un esempio, assolutamente sul basso di Luziano, abbiamo provato a provare a Bador a bere, provate per esessere la sardina di Cassolio. E questo va a te, si intendevo. Ecco, tu puoi corregge, puoi donare consigli. Intendevo. Non so se ne va. Pone un po' per basso. Prova! Pos cantamos cu vera appassione ha… Amma, amma, amma Asa comissata sta andando bene, non puoi ando Vas a tirare da lungo, non puoi acquirre di tonalità Prova di luare in Antarenus, prova Prova di luare in Antarenus, respira bene Pensemmo, a trepa pausa di punti Prova di luare in Antarenus, una pausa di punti Prova di luare in Antarenus, non puoi acquirre di luare in Antarenus Hai un po' di pruso, prova. Non lo sempre segui da Luciano. Vai, non troppo, Paolo. Praticamente, otta noi, cominciamo tutte cose, provando e tornando a provare. Era un danno, naturalmente, semmo sanno un esempio proprio... Valores, come sai, lo stardeschi lo intendeva portarsi su... su bravo e manno e ho preso. Però noi, nel laboratorio nostro, lo stavamo proprio... I su targosi. Proprio cominciando, e poi ti senti... Andrò queste maschilità sul comizio. Siamo cominciando a grattare. Quindi lo faccio passare, tornare a cominciare... Ho preso. Ma vedi i dolori del seguito, cioè quel male... Dove proprio seguito. Dove? E' un'impostazione proprio che hai... E' innaturali, non è una cosa... Oltre a questa... Esa... Esa basso non sono naturales. E' un preso. Quindi, a sa prima... Proprio... Si intende... Dole proprio seguito. Dole seguito. No. E poi vada... Una essa difficoltà di 6 anni, in questo caso la morbido... Va proprio sta... Osta difficoltà di... Devo prendere... A trempare su punto. Noi spunto ne l'avamo sposa notta, no? C'è notta, certo. Osta invece di San Meso vuoi... Non... 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 Bevere a uno... Poteva andare... Bimba... Lì andava a trempare sul punto. Bimba... E la trempavano. A su basso questa cosa... E su basso e santa... Vieneva da... Però tu proprio... Vieneva da... E lui andava a tornare a provare... E tornava a provare... Sempre andava in modo fino a che... Non aveva proprio dolore manca su tutto. A questa prima come è stata... È un preso. Poca tempo soffri di un uvago con questo dolore? Cioè... Una gira... Un mesi... Non si uscite? No, però... Un mesetto buono... Eh... Però che... Desire a cominciare... Poi... A creare proprio su... Su pezzo giusto... Che era di... Noi se io... A saino... Io... Sos pezzini... Comenzavamo sempre sul laboratorio... O... Los comenzavamo a zannarlo... Eh... Quedavamo su saggio a finisola... E a finisola... No vedevamo due volte a saino... Eh... Esclusa... Sar... Sar periodo di vacanza... Eh... E a finisola... Vaya da... Eh... Ripeto... Si non tenia zai appena sali... Osa... Un preso... Quindi... Che era di un montone di tempo... Naturalmente... Se si sa... Usi di non soffrire... Prusa... Magari... Che era di un mesetto... Però poi... 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 Noi non calavamo su... Eh... Uno... Un stagione... In trea... Di Amonari... Non calavamo... Un preso... E dunque... Su Fride Prusa... S'ha... 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 Un preso... S'ha... 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 Un preso... Naturales... Ecco... Il protestista viene riconnotto... Aumenta il premio... Unesco... E certo... Aumenta... Patrimonio immateriali... Patrimonio... Unesco... 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 tu hai detto di oggi come in testi, mi pare che c'è qualcosa in marocco che canta in questa maniera, ma forse non con questa poesia completa, come ti fai questa poesia, no, non scivo, ne dame tu. No, ho reso le tue, ma proprio il caso, però in effetti strutturalmente a noi, il suo giro ci siamo usati, fino a questo spargone, poi abbiamo dato fino a questa esperienza spargica al festival, noi azzapavamo un po' di singola spargone, no, una volta noi scappavamo in un gruppo di Unione Sovietica, in questa regione Tuva, e pareva proprio una altra, però da solo. Fatti i bitoni, i singoli, da solo. Praticamente io a metto la chitarra, e pareva proprio un'altra serie di... si asimilizzava da quella altra, però è stato molto attraversa, attraverso i libri, in altri altri, ma non come in testi, questo è l'ego di questo senso a me, questo senso a me, non mi risulta di avere un gruppo di altre strutture. Una forma uguale come i nostri, non c'è. Ebbè questo è una cosa bella, buonosa, può essere un accorredde di terra a me, questo marimanno, e tenevo il canto a tenore, tenevo il launedda, tenevo i nuraghi, sono un montone di cose di questa cultura, cosa nostra che si traccia di Aderumera. Torrendo invece a questo canto, è un'altra, il suo basso è un tendo e due vocali d'alisi del picciocchetto del tuo canto. Torrendo invece a sola, fai mi intendi proprio come hai in testa, e come ti si debbi di impostare, può cantare questa cosa. Alcate sul microfono, verso il pregio. E ma... No, però va tranquillo, non ti preoccupa. E ma... Anche la serata completa. No, però va proprio non ti preoccupa. E ma... E ma... E ma... Ecco, questa è... Questa è oltre. Eh, una cosa, questa atteggiamento, questa postura che si vuole in testa a mano... ha detto in... E ti asprevi? Poi rifletti sulla zona e sulla riga? Come in testa? Sì. Ma... E' bello che si vuole in testa a mano e la figura si... Ma... Io sovinario sempre... Ripeto... Questa cosa è importante... Ma... Mi servivamo... E servivamo... E servivamo... A tra... Ho preso... L'altra cosa è ascoltare me la musica... Abbiamo... Possibilità... Che... E che è che... Non si capisce... E che... E che... Non si aggravava... In un... Un lancio di sottotterole... Ni si scupreva... basso o sa oltre ad un giro particolare e ancora in pala oggi la tecnologia evadone sa scufia va bene la possibilità è più facile quindi sa ora io mi dico in tenere denario di questa cosa assessorare la cultura e la scuola di essere convinto di dare una mano a giudice a noi fondamentalmente tutti questi soci stavamo veramente volontari in sostanza se invece si vada più questa questo ufficialità vediamo una struttura e organizzai assolutamente in modo soltanto e poi vada provvida c'era capitato a noi siamo il signore aria sul laboratorio 6 sull'armidia sa e noi è sopporto a noi siamo la parola solamente suzio ai nel laboratorio del ballo organelli su metta buca tromba in ramonosi e poi va bene solo a civica e solo a civica è abbattito il maestro suo secondo me invece una cosa importante è che i te vado in questa vita va caldo alle persone poten essere salliose va caldo agli sozziu a noi si no e ammo si tenere un preso dal punto di vista venerdì sozzi al corso del terrore noi siamo tre sabato a tenere ufficiali certo e non tanto il sospettino che cantano a un preso e quindi fiare ossos isone sa sarà di ina nostra e l'unaglio giusto pru procata vita in modo i e appare l'utraio sa vita a sennò non si ti succede noi si praticamente imparando attraverso la scuola civica noi si praticamente sempliciamo sai non coppia in colla ma le alle ballo le alle anto in pazze dante sa possibilità sui siri e locale in questo caso un museo su tenore murale ma può essere il tenore lontana ora potessi ottenere su bramonte non va problema usso però sottraggio escusa orgo solo c'è a rossa possibilità se non mi sa cosa importante è usso di veramente ripeto tornando in pala sa un'assessorata cultura un'isola un'istituzione isola in argio e eri proprio attinto a usso insomma il sindaco locale di usso preso questo è l'importo umano questo non riferirò solo all'orgosolo è una comprensione o credo sia l'importante prodotto poi s'attuto sono mastro vieno a mano recosa che leggo senti ha fatto musica e il suo proprio bisogno di aumentare tutto però non crementi a riscaldi che risulta e dai no a pausa non siamo a dare fotocopias no amo spruzioni apposso piscinello e mi interessava da mi miudo al aviara usava usa pratica poi questo pezzino deve essere riso a noi siamo su unico so come te persone se unico viene solamente il pezzo se non si potremmo rassimizzare c'è un tre maurizio si può rassimizzare o viceversa bastiano si può rassimizzare a san morizio però non è narrao se tu hai un pezzino lo scolarizza in italiano troppo perde il suo sapore di questa crescita di questa identità poi questo scanto è un fonte di canto che non è una tradizione orale dunque è il canto che hanno scritto che hanno imparato da scuola ma in scuola a 3 e 20 poi 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 coinvolge il maestro che tende la possibilità di contare ai giovani sui scienzi con questo traggio con questa moda e con questa tradizione e una cosa è una curiosità che ho detto quando i picciocchetti sono costanti a tenore e volentieri mancavi come sai questo scintigiai che volentieri diventieri contrabasciumi e sbocchi o bocchi o sei posato su maestro che ha detto se no è meglio che tu con questa qualità di te bocchi come te hanno avuto i provventi su questa motoredda o su polcchetti e tutto il canto e ha detto se no tu i poti fai se ti gusto con questa altra cosa come te che cominciano a scioperare i tavoli in te vai e come ti arriva a fare di adere su uno modello di bocchi su buona sera volta sa e all'eco di questa esperienza che abbiamo fatto a parte del mio ma assolutamente su un sito se li trovavamo un caso raro proprio che non eravamo arrivare oltre o arrivare a andare su buona sera volta sa uno o noi a indirizzare il penneco su caso a indirizzare secondo me mi tu e poi provavamo e poi discutivamo il mio amore veniva assai nero mi interessava il suo aerefatto su e le aggredavala un proprio momento un pezzino e tra l'altro un ultimo ormai da veniva solamente il turnista in noi si ponia a Samizuvo e andavamo sempre a Samizuvo e noi si dopo un anno insomma che l'uomo che l'uomo che l'uomo veniva su anni questa stagione l'uomo si lavava le volte e poi a Samizuvo e per un'aria su buona sera volta assolutava su un sito dopo io avevamo per i diversi giorni e io avevo in quinnissos provavamo se prima provavamo per esempio il ritmo quindi andavamo per esempio avevamo Samizuvo e avevamo tutti Samizuvo per un'aria e poi andavamo a Pimba Raaaaaaaaa e poi andavamo a Pimba Raaaaaaaaa una bella bella come questa oltra e abbiamo demorato il sole di prima e che ho apprendito la tua vita e che ne hai una persona che poteva dire altrimenti abbiamo la Pimba Raaaaaaaaaaaaa ma soprattutto per questa cosa che è culturale non fuori in galli strutturati all'aria di Pimba Raaaaaaaaa per il proprio caso, se chiamano sapere il pizzo che avevano già un'altra cumpria, ma siamo collegati a dargli caso. Noi aumenteremo il posto di un gemmine, poi questo gemmine che veniva dopo. Questo veniva quasi, quasi, andiamo da osservare che veniva dopo. Cominzava da sobbattordi, 20 anni, a che si era ampio questo gemmine e noi in questi anni avevamo lo gettato. Lo ripeto, però, il buon essere morto è stato un giudice che avevo due ipotesi, o tentando di morire il giudice. Questo è un modo di continuare con queste tradizioni, potete appagappare così coinvolgiti le persone se continui a andare incostati. Dunque, se dipende da qualche altra cosa che ha dipentato, potete donare altri consigli, a che noi potete accadere con questo ottobio, per ascoltare e mancare un canto completo, con questo, con il tenore Castiadui, con il tenore Lurale. Sì sì, abbiamo cominciato il tenore Sormannos e poi potremmo unire tutti i pinni, potremmo andare. E non si è vero, non si è vero, non si è vero. Abbiamo di capire un po' di spesa. Ah ecco. Abbiamo andato a spare, due oltre e due mesi oltre. Lì andavamo, infatti, questo nuovo lavoro, abbiamo fatto parte di dare i giochi su libri cd, non si è vero. Ho messo un po' di preso. Una pisa, non si è vero. Ecco, però, ultimamente è andato in questo luogo. e noi siamo romantesi, noi siamo spiegati sui zai baii, noi dobbiamo riconoscere che abbiamo ereditato in tutto questo senso, se è l'eco della nostra cultura, sia da i suoi strumenti, abbiamo ereditato un tesoro, sia da un strumento sia di uomini e di emina, sia da l'eco della nostra cultura, quindi noi abbiamo una discussione, mi bello, ma lì non eravamo appizzati sui zai baii, ma lì non eravamo appizzati sui zai baii, ma lì non eravamo appizzati ma lì non eravamo appizzati sui zai baii, quindi noi l'avevamo ufficializzato in questo scritto mentre mi bello, ora cominciamo sui zai baii, non so, non so, non so, però noi vogliamo fare spazio, adesso si chiedevi a voi. E sai, adesso una cosa, tu come ti pensate di fare, cominciai con i mani e poi... E poi questo so, si chiamano di spazio. E sai, adesso una cosa, noi salutao su Deo, su Marco, se posso ascoltare bene questo canto, Toro grazie a tu, a tutti i gruppi di tenore, murali di Orgosio, ai giovani che hai già avuto pronto su voglio cantare. Casi pronto su. E grazie naturalmente a Franco Corrias, questa bella opportunità di che adonavo a questa televisione nostra, che si vuole sempre in conca dei questionari di cosa sardasa in sardo, questa cosa di importo buono, ma praticamente in me la televisione si fa intibili tutto cosa sardasa, ma che stanno sempre in italiano, in questo canale. E questa di oggi, dopo noi, è l'ultima puntata, dunque si è spazionato con una delle cose belle, in una delle riccheze sprumanze, che è appunto il canto a tenore. Dunque, ti rendi grazie a Franco Corrias che ha donato questa opportunità, in noi questa bella posente, in questa bella doma che ho donato, in noi in Orgosolo. Salutavo a tutti questo che si è attesa di chi, in questa binti gira, se avete fatto, binti puntata, e dopo vorrei grazie a tutti questo che hanno traballato. Ringrazio a Marco Corrias e a Alessio Notturno, ma c'è stato un montone di gente con Massimo Pinna che traballata e dove esi nel titolo di Coda, come in Italia in italiano, e che contavano chi ne ha traballato e chi ne ha fatto parte di questa bella squadra di questa trasmissione maestro. Tornavo grazie a questa regione sarda, avete visto che questo mando imprende, ci ha donato questa possibilità di un aggiunto di registrare, montare, trasmistare tutto il canto. Dunque, grazie a Sussetto 8, a Produzioni di Sardegna, tutto questo che ha fatto cosa, questa bella, questa trasmissione. Dunque, se noi osservate a questo atto più di noi, il settimo atto più di noi, ma questo si discutendo, intanto, sono tanti attenori con formazioni ufficiali nella causa dei murali e poi il giovane che si può anche accantare con questo. Dunque, noi mettiamo questo avanti e la scritta. No, ma con le grazie a mano, ho andato attivi, a tutti i paesi di Spanio, comunque si sta una bella idea. È vero che stanno in un anno di Vichy Terrenale, e ora la regione ha postato a disposizione. Sì, sì, c'è da Giuda Omerano. E quindi, viene un sottorio da Salega, e prima di essere ora, di essere sottorato. Quindi, grazie a tutti, che si è entrato a Sardegna, insomma, è per noi un onore. Ecco, grazie. Ora stiamo in questa poesia, e questo è il titolo, il più sottitolo del nostro lavoro, non si è assicciato. E crediamo sia una bella, una bella poesia del mondo Piras, un nostro mannoso. Sì, sì. Manno è un poeta, improvvisatore, cantatore a poesia a Bolo, ma io sono scritto da Tavolino. È uno dei mannoso. È uno dei mannoso. E dunque, vi ho ascoltato con il progetto di Manno, e con voi, vi ho avuto un'altra cosa bella, che vi ho avuto in televisione, radio-televisione in Sarda. A voi. 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 che sia un viviente va a rendere la limba di suo padrone la nazione che perde su don di salin vai scumpare lentamente ma si musiche le si dà e mente in iscrittura e oi 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 la nazione che perde su don è di salin vai scumpare lentamente 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 oi 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 o o E a scuola non che la giuguita esprola di fundermenzzur, dai come se zir di sardizende a fizzor bo. E a scuola non che la giuguita esprola di fundermenzzur, dai come se zir di sardizende a fizzor bo.